Brutta battuta di arresto per il Casette Verdini che non va oltre l'1-1 interno con il Monturano e vede superarsi dal Muccia che a sua volta gancia il Monte Cosoro in vetta alla classifica. Ora gli uomini di Morra sono a meno due dal duo di testa che si scontreranno proprio nel prossimo turno. Per quanto riguarda il match, Lereti nel secondo tempo, Vallesi porta in vantaggio il Monturano con un bel diagonale di sinistro, poco dopo pareggio dei locali che sfruttano una papera del portiere. Sentiamo le dichiarazioni a fine match dei due mister Bagalini e Morra. È stata una partita, l'ennesima partita giocata sul fango, una partita che noi credo che nella prima parte abbiamo interpretato molto bene, poi un episodio chiave all'espulsione del nostro centrale quindi siamo rimasti in dieci, nonostante questo abbiamo trovato il vantaggio, il Casette Verdini chiaramente girava il fianco in un paio d'occasioni, siamo stati anche pericolosi, poi c'è stato un infortunio del nostro portiere, il Casette Verdini ha barreggiato e a quel punto poteva sicuramente vincere la partita perché noi avevamo dato tantissimo, è l'ennesimo regalo che facciamo dopo le ultime partite e quindi ci portiamo via un punto. Sapevo che questa sarebbe stata una partita difficile, che il campo sicuramente ci avrebbe penalizzato, abbiamo incontrato una squadra e non mi spiego come possa stare in questa situazione di classifica, una squadra organizzata che ha giocato, come ha detto il mister loro sono passati in vantaggio, poi hanno avuto anche, quando una volta rimasti in dieci hanno avuto anche la possibilità di raddoppiare, a quel punto lì noi abbiamo un attimino reagito, abbiamo inserito un'altra punta e da lì la partita è cambiata, abbiamo sì pareggiato per infortunio della difesa loro ma c'è da sottolineare il fatto che il signor Ferretti ci ha annullato due gol fuori gioco inesistenti, due gol clamorosi e per di più c'è da dire che a tre minuti dalla fine stavamo andando in contropiede, quattro contro uno, dicasi quattro contro uno, lui ha fermato il gioco, ha fischiato un fallo quattro metri dietro senza lasciare scorrelazione come dice il regolamento.